Tutti i numeri dicono gela e i numeri alla fine danno sempre ragione. La squadra Biancazzurra è ad un tiro di schioppo dalla Serie D. Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato e tutti i numeri stanno dalla parte del team, preseduto da Angelo Tuccio. 16 le vittorie, due in più della diretta concorrente, la San Cataldese, e solo tre sconfitte rispetto alle quattro rimediate dai nisseni. Più gol fatti, ben 53. Non è quella Biancazzurra però la miglior difesa del torneo. Pandolfo e Soci hanno subito 20 gol, quattro in più rispetto alla seconda in gradatoria. È l'unico neo, se vogliamo, di una stagione semplicemente straordinaria che dovrà concludersi, così come impone il blasone della società, nel salto di categoria. Nelle ultime quattro partite sono arrivate altrettante vittorie. Il Gela non perde dal primo novembre scorso. In quell'occasione, Nassi e Soci furono battuti dal Mussomeli per 1-0. Da allora sono arrivati ben 17 risultati utili di seguito. E bisogna solo proseguire perché la D aspetta proprio il Gela. Per utilizzare una frase tanto cara ai tifosi, la squadra di Totò Bruculeri è solo di passaggio nel campionato di eccellenza. Domenica prossima in Camponeuto le Biancazzurri affronteranno la Pro Favara. Da calendario si giocherà in trasferta e si giocherà contro una squadra che annaspa in gradatoria con l'acqua alla gola. Gli egligentini infatti occupano la penultima posizione con soli 24 punti in compagnia del Cus Palermo e sono reduci dalla sconfitta 2-0 rimediata in casa del Mazzara. È chiaro, così come accaduto in altre circostanze, che gli avversari del Gela giocheranno la partita della vita contro la capolista e faranno di tutto per sgambettarla. Metteranno ardore e fisico per tutti i 90 minuti. Ma oramai i gelesi hanno capito come bisogna affrontare quelle che sulla carta sono individuate come gare facili e che alla fine non lo sono affatto. Vincere anche domenica prossima significherebbe mettere una seria ipoteca sulla promozione. Anche perché il compito che aspetta la San Cataldese non è dei più semplici. La squadra di Rosario Marcianò sarà di scena in trasferta contro l'Alba Alcamo che ambisce ancora ad un posto nei play-off.